Ciao ragazzi, oggi voglio introdurvi il lavoro sulla human flag, come sempre partiamo dai movimenti base, quindi iniziamo a introdurre il discorso torsione del gusto. E' un lavoro molto semplice che andremo a eseguire a terra, ma lo consiglio soprattutto a chi si sta avvicinando, a chi sta già eseguendo dei lavori per il freestyle, perché questo tipo di movimento di torsione è tanto sottovalutato ma molto utile quando si parla di lavori di 360 ad esempio sulla sbarra. Inizio a introdurvi il lavoro che si fa a terra, quindi seguimi. Si chiama un Russian twist, teniamo le gambe unite, piedi a terra, immaginate di andare a guardare dietro di voi e allungare anche le braccia per andare a toccare una superficie, ok? Quindi non tenete solo lo sguardo fisso davanti e muovete le spalle, ma completate un lavoro di torsione con tutto il gusto. Potete usare un sovraccarico, manubrio da 3-4 kg per aumentare l'intensità del lavoro e la velocità di esecuzione. In questo modo quel peso sarà più difficile andare a toccare, diciamola così. Questo è un primo lavoro che è tutto quello per la Human Flag. Ci vediamo sul prossimo video per esercizi più complessi. Ciao!